Amici del software libero, penso se benvenuti o bentornati in questa 52esima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando della foglia richiesta che la Free Software Foundation ha fatto a Microsoft, e sottolineo foglia diverse volte più avanti capire del perché. Rilasciare Microsoft Windows 7 sotto forma di software libero e consegnarlo alla comunità per studiarlo e migliorarlo. Che ha fatto la Free Software Foundation? In occasione del termine ultimo del supporto a Windows 7, che come ben saprete è scaduto il 14 di gennaio 2020, ha pensato bene di lanciare questa raccolta di firme sul web sul suo sito ufficiale, volta a chiedere appunto a Microsoft di rilasciare Windows 7 sotto forma di software libero. Questa petizione, il termine ultimo della raccolta firme, che è scaduto il 5 di febbraio, ha raccolto 13.578 adesioni, e penso che verrà indirizzata a Microsoft quanto prima. Ma il termine, diciamo così, il limite minimo che si erano posti, quelli della Free Software Foundation, era raccoglie 7.777 firme. Quindi come potete vedere, con 13.000 abbiamo ben superato questo obiettivo. Io spero per la Free Software Foundation che venga inviata a Microsoft, e spero che Microsoft dia una risposta consona alla Free Software Foundation, e non i gesti che potreste aver pensato anche voi in questo momento. Cioè, parliamoci chiaro, secondo voi la Microsoft potrà mai fare una cosa del genere in futuro, cioè rilasciare uno dei suoi sistemi operativi più apprezzati, che contiene tecnologie proprietarie, rilasciare sotto forma di software libero? Per quanto ci sia il mantra, Microsoft ama Linux, una cosa del genere secondo me, è completamente impensabile. Non lo so, vabbè, è una provocazione fatta a quelli della Free Software Foundation, molto probabilmente una provocazione fatta per far vedere che ci sono ancora, dopo la dipartita di Richard Sturman, non che sia morto Richard Sturman, ma sapete bene che è stato fatto fuori dalle cariche che lui ha segnato all'interno della Free Software Foundation, altre organizzazioni, a seguito di alcune sue dichiarazioni poco felici e malinterpretate, che sono state fatte in passato, andate su Marcosbox a cercare maggiori informazioni su Richard Sturman e su quello che è successo, trovate il tasto cerco su Marcosbox, cliccateci, mettete Richard Sturman e andatevi a leggere tutte le cosine, oppure andatevi a riascoltare le puntate precedenti del podcast. E non lo so, vabbè, gliel'hanno fatta questa proposta, vedremo che cosa accadrà. Passiamo adesso alle notizie leggeri, passiamo di personalizzazioni e temi GTK, che funzionano per Bagi, Cinnamon, Gnome Shell e XFCE. Qualche tempo fa vi avevo parlato del tema Marwa Ita, un tema che è molto apprezzato su Gnome Look, che nella sua variante principale è molto carino. Che cosa ha pensato bene di fare l'autore di questo tema? Ha rilasciato una nuova edizione chiamata Marwa Ita Ubuntu, che, come lascia presagire il nome, è una variante che utilizza la palette colori di Ubuntu, quindi con la presenza del tipico arancio Ubuntu. È rilasciata in due versioni, la versione chiara, grigio e arancio, e la versione scura, come va di modo in questo periodo, che è in tonalità scura, quindi nero, grigio, non so come chiamare quel colore, sono un uomo, quindi io ho due colori, grigio e nero, cioè non è che ho i sfumatori intermedi, non li so percepire. Comunque, variante scura con tema GTK scuro e presenza di questo tipico arancio di Ubuntu. Guardando le due preferisco la variante scura, la variante chiara con quel grigio e arancio non mi convince a livello di accostamento. Comunque, se siete interessati su Marcosbox, trovate il link sulla pagina del tema Marwa Ita Ubuntu su Gnome Look, potete andarlo a scaricare e provarlo sulla vostra distribuzione. Io continuo a preferire il tema Yaro, che a mio avviso è una delle cose meglio riuscite di Ubuntu. Restiamo in tema Gnome e parliamo di layout switcher. Qualche tempo fa vi avevo parlato di questo tool, che è stato sviluppato da Manjaro per Manjaro Gnome, tramite il quale è possibile personalizzare con pochi clic del mouse il layout di Manjaro Gnome. Inizialmente erano previsti quattro tipi di layout. Il layout Manjaro, che è quello predefinito, il layout alla Windows, il layout alla Mac OS e il layout classico alla Gnome. Bene, dal profilo Twitter di Manjaro è arrivata la notizia che, fra non molto, sarà possibile avere due nuovi layout predefiniti, ovvero Unity, che, come lascia presaggire il nome, si ispira al layout di Unity, quindi all'Ubuntu, a mio avviso sarà una copia del layout che abbiamo attualmente su Ubuntu, e un altro layout chiamato Tiling, che si ispira i tre a WESOM, quindi anche se dall'anteprima che è stata postata tramite Twitter, nel disegnino che accompagna la descrizione, che accompagna, o meglio, il selettore del layout, il layout è uguale a quello di Unity, ma probabilmente hanno soltanto sbagliato e ancora non hanno realizzato quello apposito per Tiling. Comunque, spero di poterlo provare a breve, magari faccio un salto su Manjaro Gnome per dargli uno sguardo. Questa settimana poi è stata anche scoperta una vulnerabilità in sudo, vulnerabilità che consente una escalation di privilegi che può essere sfruttata da qualsiasi utente anche senza autorizzazioni di sudo. Questa vulnerabilità è stata scoperta da un ricercatore di Apple che ha segnalato questa vulnerabilità chiamata CVE 2019 18.6.3.4 e appunto riguarda sudo sia per i sistemi Linux che per Mac OS. Affrigge le versioni di sudo anteriori alla 1.8.26 comunque sono stati già rilasciati degli aggiornamenti sia per le distribuzioni Linux che per quanto riguarda Apple qual è la particolarità di questa falla? La particolarità di questa falla è che può essere sfruttata solo quando è abilitata l'opzione password feedback che è un'opzione nel file di configurazione di sudo user che è preabilitata su alcune distribuzioni come Linux Mint che consente di visualizzare un asterisco quando un utente mette una password nel terminale. Di default comunque sulle principali distribuzioni Ubuntu e quant'altro non è abilitata questa opzione perché quando mettete la password non vedete niente che è anche uno dei motivi di panico e paura dei vari utenti che si affacciano per la prima volta al mondo Linux che dicono ma io sto mettendo la password ma non esce niente perché predefinita di sudo non c'è questa opzione per visualizzare almeno gli asterisco per capire quanti tasti ho digitato del codice comunque trovate maggiori dettagli su Marcosbox magari quelle cose più tecniche Ultima notizia della settimana riguarda il mondo Android Mozilla aveva promesso che ad inizio 2020 sarebbe arrivata il supporto alle estensioni per Firefox Preview che è la nuova versione di Firefox che Mozilla sta realizzando per il browser per Android quindi sostituirà la versione classica di Firefox per Android questo nuovo browser con un layout completamente differente con un engine differente e quant'altro attualmente Firefox Preview non supporta nel canale stabile le estensioni a gran voce è stato chiesto dagli utenti quando le mettete a sacco di estensioni perché è una delle caratteristiche principali e più interessanti di Firefox anche nell'auto mobile bene nella Nightly dell'altro giorno del 4 febbraio è stato finalmente aggiunto il supporto sperimentale e si è iniziato con la prima estensione che è Ublock Origin all'interno delle impostazioni di Firefox sarà possibile attivare i Firefox Preview Nightly quindi andatevi a scaricare dal marketplace di Android questa edizione è possibile abilitare Ublock Origin e navigare protetti dalle pubblicità quindi una navigazione senza pubblicità inquinanti e quant'altro su Marcosbox ho poi fatto anche un piccolo video che poi trovate sul canale correlato di YouTube bene con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao